Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano un'estate 2022 ricca di colpi di scena. Va precisato che questa trama andrà in onda nelle puntate tramesse in America. Il promo estivo vede come protagonista Sheila, la quale dovrà pagare per aver distrutto la vita di Steffi. Sembra proprio che questa volta, la Carter si sia messa contro la donna sbagliata. In particolare, il promo prende inizio con una voce che fa notare come la temutissima Dark Lady sia colpevole di ogni delitto di questa fase della trama. Per chi non lo sapesse, Sheila torna a Los Angeles rivelando di essere la madre biologica di Finn. Viene subito allontanata da Steffi, la quale ben presto scopre il suo subdolo piano contro Brooke e decide di affrontarla. Durante questo confronto avviene di tutto, Sheila spara Finn per errore e poi completa l'opera colpendo anche la giovane Forrester. Entrambi finiscono in coma, ma tutti credono che il medico sia morto. Invece, la sua mamma adottiva, Lee Finnegan, lo tiene nascosto attaccato ad alcuni macchinari, in un luogo misterioso. Mentre Steffi decide di ritrovare se stessa con un viaggio in Europa, Sheila finisce in prigione e scopre che Finn è vivo. La Carter riesce a fuggire di prigione e a trovare suo figlio, ancora in coma. Proprio quando lei sta discutendo animatamente con Lee, Finn apre gli occhi e pronuncia il nome di Steffi. La situazione per le due sue madri si complica ulteriormente, al punto che avviene un tragico inseguimento. Lee finisce in mare con tutta la sua auto e viene data per morta, secondo le anticipazioni americane di Beautiful. Ora l'intero promo estivo sottolinea che Sheila affronta la persona sbagliata, ovvero Steffi, la quale non si fermerà di fronte a nulla pur di allontanarla per sempre dalle loro vite. Nelle prossime puntate americane, la figlia di Reed tornerà a Los Angeles e reagirà sicuramente male alle ultime notizie sulla Carter.